Questa giornata Sunday Cup, Blue Island contro Sampdoria, risultato che vede in vantaggio due volte a zero la dei Blue Island con Sica Junior e Carmine Petta. Sampdoria c'è da dire però abbastanza rimaneggiata quest'oggi le varie assenze importanti purtroppo possono anche condizionare la prestazione mentre c'è da segnalare anche il ritorno al calcio giocato di Vincenzo Arlando dopo l'infortunio gravissimo adesso Petta serve ancora centralmente Sica Junior che purtroppo non riesce a far girare palla verso il fratello Sica Junior serve bene però Junior Junior Mignon capito era più Mignon che Junior Petta anticipato adesso Chucky incompleto arancione non si capisce perché poi ancora Sica Junior anticipato da corporente che mette in fallo laterale ancora possesso palla a favore dei Blue Island che insistono vogliono il 3 a 0 sulle ali dell'entusiasmo adesso Carmine Petta cerca una sponda al centro Cassese spazza tutto e poi non ci pensa due volte Salvatore Cimmino Palla bimbi Luca Lizzatro adesso Sandro Sandro Cassese alza il pallone a cercare Sergio Mastro Giovanni poi guadagna il tutto in un calcio di punizione grazie a un fallo di mano Mastro Giovanni sul pallone attenzione finisce in calcio d'angolo il pallone ma no si si in calcio d'angolo a favore della Sampdoria che cerca di tenersi in avanti per costruire il gioco anticipa tutti Vincenzo Orlando adesso serve sulla corsa Francesco Sica però corporente sfiora purtroppo soltanto e devia in calcio d'angolo quindi completamente ribaltata la situazione a favore del Blue Island adesso palla al centro anticipati tutti poi non riesce a tenere il capo Giovanni Sica ancora Sica Palla laterale che azione di Sica che velocità di azione Sica perde il pallone nel contrasto contro Sergio Mastro Giovanni Sica per Sica poi colpisce di mano aveva cercato di fare furbo Giovanni Lizzatro all'inavanti ci arriva l'attaccante della Sampdoria però non riesce a inquadrare la porta Carmine Petta Francesco Sica il colpo di tacca a cercare il fratello prendiamo quest'ultima azione a favore del Blue Island Sica Cassese serve bene Mastro Giovanni Mastro Giovanni mezza 2 per cercare di andarsene in velocità Mastro Giovanni mette il pallone laterale la porta di Cimmino e chiudiamo qui il nostro collegamento